Musica Ma buongiorno a tutti, fiorellini miei Io mi sono appena svegliato, come potete notare dai miei capelli e dalla mia voce E sto andando a fare colazione, a lavarmi i denti e adesso vedrò Ciao Ce ne vediamo un po' i direct, va? Soltanto una richiesta Mamma, ma ti sei fatta Instagram? Comunque, raga, da quando il mio indirizzo è finito online, qua sotto è sempre un casino Comunque, raga, da quando il mio indirizzo è Sarà arrivata la seconda stesura del mio nuovo libro, sì? Una multa? No, guardi, ci deve essere un malinteso, ho sbagliato il citofono, sì Una multa Buongiorno ragazzuoli, avrei un mezzo dubbio oggi, non so che cosa mangiare Secondo voi è meglio, anzi vi lascio un sondaggio, secondo voi è meglio pizza o sushi? Tu mangi quello che c'è Mamma, ma Ma poi cos'è questa cosa? Attivo Salve, pagamento invisibilità, gliel'hanno detto però Ma cosa succede? Ehi, scusa Ciao, rompo il ghiaccio io se vuoi, vuoi un video, una foto per una tua amica, dimmi il nome In realtà volevo sapere dov'è il Duomo Il Duomo? Guarda, sinceramente non lo so perché mi sposto sempre in taxi Ah, ok, grazie Non vuoi neanche una foto? No, no Una firma? Un autografo? Salve, Barozzi Come non ci sono nella lista? Scusi, in che senso? Puoi controllare? Guardi, io ho 180k su Instagram Per favore mi... Guarda te, ora chiamo la mia manager, le faccio vedere io Sì, pronto Vicky, ascolta, sono qua davanti all'evento Come non sai chi sono? Toglio, sono Enea Ma come non sai chi sono? Uh Uff Uff